ciao a tutti tramite questo video che ho realizzato grazie al contributo di amici colleghi che operano nei vigneti di tutta italia voglio aiutarvi a riconoscere i sintomi fogliari della flavescenza dorata vi farò vedere quindi come la malattia si manifesta su una serie di vitigni considerate che anche nell'ambito di uno stesso vitigno i sintomi possono essere differenti a seconda che si tratti di una fase iniziale o di una fase avanzata della loro manifestazione grazie a tutti spero che questo video vi sia utile per riconoscere i sintomi di questa pericolosissima malattia detto questo ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato le immagini dei vari vigneti italiani e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti